Ha fessato l'assassino di Walter Lübcke, il politico cristiano democratico di 65 anni trovato morto con un colpo in testa in casa sua, a Wolfhagen, nell'Asia, lo scorso 2 giugno. Collaboratore della cancelliera Merkel, Lübcke aveva ricoperto diversi incarichi locali e regionali nella sede U e si era distinto per le posizioni molto nette a favore degli immigrati, cosa che aveva mandato in bestia i gruppi neonazisti, che lo avevano più volte minacciato di morte. A entrare in azione è stato Stefan Ernest, un estremista di 45 anni, arrestato dieci giorni fa. Sostiene di aver fatto tutto da solo, ma gli investigatori non gli credono. Lo dice chiaro il ministro dell'interno Seehofer, cheppure non è mai stato tenero sulla questione migranti. La confessione di Ernest non chiude le indagini su quello che viene classificato come un omicidio politico, per il quale il governo tedesco ha messo in piedi una squadra con 80 investigatori e 5 magistrati, ha detto il procuratore federale Frank. Si cerca di capire se ci sia una vera e propria organizzazione terroristica di estrema destra che ha messo nel mirino i politici, di qualunque colore, che hanno mostrato aperture verso migranti e rifugiati. La rafica di mail con minacce di morte ricevute nei giorni scorsi da diverse figure istituzionali, tra cui la sindaca di Colonia Recker, che quattro anni fa fu accoltellata, fanno temere il peggio.